Lo Spirito Santo, promesso dal Risorto, apra i nostri cuori al dono della speranza, perché, per l'intercessione delle Vata Virgine Maria, la nostra vita sia rinnovata dalla fede e dall'amore. Il Giubileo ordinario terminerà con la chiusura della Porta Santa della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, il 6 gennaio 2026, Epifania del Signore. E benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.